Buongiorno, sono Andrea, titolare dell'azienda Agricola Macagnola. Produciamo latte e per il momento abbiamo 65 cappi in lattazione. Abbiamo scelto i materassi ATZ per migliorare il benessere animale e diminuire il lavoro in azienda, cioè che nella struttura vecchia che avevamo facevamo tante ore lavorative, far paglia nelle cucette, invece qua facciamo solo una spolverata di segatura una volta alla settimana. Spostando gli animali dai materassi in gomma ai materassi ATZ ho migliorato nelle zoppie e ho notato anche che si stanno sgonfiando i garretti. Grazie ai materassi ATZ abbiamo migliorato la qualità del latte riducendo le cellule. Con ATZ mi sono trovato bene perché mi hanno consigliato un ottimo prodotto. consiglierei ATZ per migliorare il vostro benessere animale, migliorare la qualità del latte e anche la nostra vita lavorativa.